E' morto a Genova nella giornata di martedì Lorenzo Acquarone, 89 anni, originario di 20 miglia, decano degli avvocati amministrativisti liguri e a lungo parlamentare negli anni 90, prima nelle fila delle democrazie cristiane e poi in quelle della Margherita. Acquarone, per anni anche docente di diritto amministrativo all'Università di Genova, è stato stroncato dal Covid-19. Nel gennaio del 2016 presenziò in Corte Costituzionale la discussione dei ricorsi di un gruppo di avvocati in rappresentanza del Collegio dei Ricorrenti Genovesi contro la legge elettorale Italicum che fu dichiarata parzialmente incostituzionale. Di recente investe di legale era intervenuto anche nelle note complesse vicende del porto turistico d'Imperia. Profondo cordoglio per la scomparsa del senatore avvocato Lorenzo Acquarone è stato espresso da numerosi esponenti del mondo politico e giuridico della Liguria. Grazie a tutti.